Karl Marx Per Marx 1818-1883 L'alienazione è il processo tipico del capitalismo, per cui i beni prodotti dall'uomo trasformati in merci iniziano a vivere secondo leggi proprie, estranee ai bisogni dell'uomo. L'alienazione è quindi per Marx un'accezione continuamente negativa nella società. Commento L'alienazione è invece un'accezione continuamente positiva nella società, che crea l'alienazione per percepire il meglio di se stessa.